Amici e guardoni della scuola ben ritrovati e tanto e tanto e tanto che noi ci sentiamo scusatemi io sono stato preso da molte cose non ultima delle quali il concorso scuola di cui appunto in questo video vi racconto e prima di incominciare vi ricordo di mettere like e iscrivervi al canale allora anticipo vi spoiler come è andato a finire è andato a finire che ho preso un decoroso 80 ora granellato un decoroso 80 centesimi non malissimo si poteva far meglio ma pazienza vi do un background della storia però è un video un po per gli adetti ai lavori ma anche per i non adetti ai lavori è stato bandito questo concorso PNRR che è il primo di un nuovo tipo di concorsi ho fatto la prova scritta a marzo il 15 la prova scritta è di nuovo tipo sono domande a crocette su questioni di pedagogia psicologia psicopedagogia informatica inglese credo basta estremamente facile proprio banalissimo tant'è che cosa mai vista prima nella storia dei concorsi circa l'ottanta per cento giù di lì dei candidati ha superato la prova scritta e quindi abbiamo avuto accesso in massa alla prova orale nella prova orale che mio malgrado ho svolto molto dopo quindi adesso il 25 di ottobre quindi diversi mesi dopo l'ho scritto nella prova orale si richiede al candidato di presentarsi un giorno prima estrarre una traccia quindi un argomento della sua classe di concorso preparare nelle 24 ore successiva una lezione simulata esporla alla commissione e poi sostenere cinque minuti di conversazione in inglese e poi ancora estrarre delle domande sulle materie della classe di concorso la mia classe di concorso è a 0 19 quindi storia e filosofia e io estratto una domanda per l'una una domanda per l'altra mi è uscita come traccia questa che vedete qui la risposta della chiesa cattolica alla riforma la contro riforma il concilio di trento vi faccio vedere brevemente il mio powerpoint anche sperando di essere di qualche aiuto a tanti colleghi precari come me che devono sostenere il concorso sosterranno il concorso quindi lascio qui questo materiale a imperitura memoria e a imperitura sussidio andiamo velocemente questa è la slide di presentazione organizzato in modo abbastanza schematico la la presentazione qui c'è un sommario con i vari punti la prima cosa da fare è l'analisi del contesto quando si estrae la traccia ti viene detto immagina di dover fare lezione in una nel mio caso in una terza di un liceo linguistico una terza composta da 27 studenti due dei quali sono BES nel mio caso è uscito questo tipo di traccia quindi bisogni educativi speciali in particolare i miei due alunni BES avrebbero avuto svantaggio linguistico quindi ho immaginato questa situazione ho descritto rapidamente la classe quindi piuttosto vivaci curiosi stili di apprendimento disomogenei livelli diversi come normale in una classe così numerosa ho immaginato che questi due BES fossero due gemelle moldave arrivate da poco è una situazione semivera perché nella mia terza elementare però che ho quest'anno c'è una situazione analoga e nel caso di questi BES quindi bisogni educativi speciali si redige un PDP piano didattico personalizzato che prevede una serie di strumenti compensativi e misure dispensative per agevolarli insomma nell'apprendimento vado veloce poi viene richiesto di immaginare un articolazione temporale del dell'argomento quindi ho immaginato che l'argomento venga affrontato alla fine dell'anno diciamo prima metà di maggio tenuto conto che storia gode di due ore settimanali in un linguistico ho immaginato di vadere l'argomento in quattro ore ripartite così verifica dei prerequisiti 15 minuti lezione frontale partecipata un'ora e tre quarti cooperative learning un'ora e poi verifica finale un'ora attenzione mi raccomando diversificare le metodologie didattiche perché non potete andare lì dicendo faccio lezione frontale spiego quali prendono appunti la nostra scuola era così non è più così quindi bisogna adottare a seconda dell'ordine di scuola a cui appartenete per cui concorrete a seconda della disciplina a seconda di tante cose metodologie didattiche alternative io ho adoperato con senso di realtà il cooperative learning poi ci arriviamo ci sono tante metodologie didattiche alternative lezione cioè come si dice classe rovesciata flip at classroom appunto la lezione partecipata il tutoraggio alla pari insomma ce ne sono un'infinita va bene qui vado veloce c'è bisogno di indicare obiettivi generali e specifici sia per quanto riguarda le competenze che per quanto riguarda le conoscenze è un ginepraio io non ho capito molto devo dire la verità di tutta questa faccenda ma insomma facendo riferimento alla normativa in sintesi qui ho scritto che cosa che ci sono diversi assi sono quattro assi diciamo previsti dal decreto ministeriale 139 del 22 agosto 2007 sono gli assi quattro assi in cui si dividono le materie quindi dei linguaggi asse storico sociale asse tecnico scientifico e asse matematico mi pare a noi interessano per storia filosofia due assi linguaggi e storico sociale e poi per questi due assi ho enucleato delle competenze che mi pare mi sembrano in particolare significative quindi per esempio padronanza dell'essico tecnico per quanto attiene all'asse dei linguaggi per esempio nel nostro argomento di riferimento conoscere le parole tecniche della teologia grazie a transustanziazione eccetera saper produrre testi per quanto attiene all'asse storico sociale una cosa che ho segnalato in particolare tra le altre è la competenza geografica cioè saper collocare le cose dove stanno perché a mia esperienza non lunghissima ma insomma mia esperienza di insegnamento della filosofia della storia la geografia è completamente scomparsa e la gente non sa dove stia la svizzera la cina il brasile eccetera poi ci sono competenze chiave dell'unione europea ne ho elencate alcune vado veloce obiettivi specifici e nucleati dal pecup che il profilo educativo culturale professionale cioè il pecup ci dice come deve essere fatto uno studente che esce dal liceo e anche quindi nucleati alcuni conoscere la storia la genesi e la natura della cultura europea italiana sapersi orientare nello spazio nel tempo cogliendo in essi causali tra i fenomeni questo riguarda storia sviluppare uno spirito di autoconsapevolezza critica che investe la cittadinanza eccetera conoscenze specifiche che devono essere apprese la cronologia fondamentale e la divisione geografica dell'europa tra paesi cattolici protestanti la differenza la dicotomia riforma cattolica contro riforma i gesuiti gli esiti organizzativi e dottrinali del concilio di trento l'inizio dell'età dell'intolleranza per quanto attiene alle competenze una che ho segnalato in particolare è la competenza di familiarizzarsi con il pensiero religioso perché tante volte questa è un'altra cosa che ho imparato sul campo tante volte si pensa che la religione sia così una specie di relitto del passato roba da vecchiette da paesani in realtà ha una sua dignità teorica la religione è un elemento ovviamente fondamentale della storia occidentale non solo occidentale e bisogna un pochino che ci si familiarizzi con le categorie del pensiero teologico e religioso per capirne la serietà la profondità la problematicità qui è importantissime qui è cascato l'asino cioè io mediazione didattica come fai lezione con quali strumenti lezione frontale partecipata cooperative learning manuale dispense la lim per visionare i contenuti multimediali la lima la nuova lavagna elettronica per esempio nel nostro caso si può usare la lim per sentire della musica barocca ecco qui io sono stato poi torturato in sede di colloquio sulle tic che io non so e non sapevo e non so ancora cosa siano sarebbero credo tecnologie informatiche per la comunicazione una roba del genere che non so davvero bene cosa sono insomma mi hanno fatto il culo perché era ancora troppo tradizionale il mio modo di fare lezione per come l'ho presentato poco poco contaminato diciamo con i nuovi strumenti tecnologici qualunque qualunque cosa essi siano allora cominciamo con la la didattica vera e propria verifica dei prerequisiti in un quarto d'ora ci accertiamo che i ragazzi sappiano dove siamo quindi domande flash per esempio cosa significa sulla scrittura sulla grazia sulla fide solo scristus che sono i cardini della teologia luterana della riforma che differenza sia tra la teologia di tommaso e quella di lutero quanto al ruolo della ragione quali furono le conseguenze politiche della riforma domande flash per verificare che tutti abbiano presente di cosa stiamo parlando di cosa abbiamo parlato per verificare i prerequisiti si può anche far vedere delle immagini ovviamente quindi che cos'è questa immagine qui questo è lutero no che affigge le famose 95 tesi descrivi questa cartina cosa rappresenta paesi protestanti paesi cattolici eccetera meme who would win chi vincerebbe most beautiful protestant church la più bella chiesa protestante most ugly est catholic church la più bruttissima chiesa cattolica meme perché gli studenti devono sapere la differenza nel culto nello stile nell'arte tra protestanti e cattolici bene finita la verifica dei prerequisiti lezione frontale partecipato un'ora e tre quarti allora primo tema che cos'è la riforma cattolica c'è una continuità di lungo periodo nella chiesa perché la chiesa si rinnova dall'interno si riforma dall'interno herbert geden che uno storico francese ha parlato proprio lui di riforma cattolica già nel 200 esempio classico con i francescani e i dominicani la chiesa tenta di rinnovarsi nel 500 abbiamo tanti fenomeni di rinnovamento e riforma interna la mistica santa teresa d'avile san giovanni della croce la nuova musica palestrina monteverdi corelli eccetera centralissima è per l'idea di riforma cattolica la figura di sant'ignazio di loiola che è una specie di anti lutero che sente come lutero tutta l'angoscia profonda e religiosa del periodo ma invece che prendere la strada di lutero di rifiuto delle opere di sola fede ecco ignazio si dedica all'impegno militare per la fede i gesuiti eccetera eccetera fondazione della compagnia di gesù nel 40 voto di obbedienza al papa per indiac cadaveri i gesuiti devono obbedire al papa e superiori come se fossero un cadavere quindi con assoluta passività obbedienza totale ruolo importantissimo che i gesuiti hanno avuto nell'educazione nell'evangelizzazione cina giappone le americhe e così via perché il concilio di trento si è fatto a trento le date 1545 63 perché trento sta a metà strada tra mondo cattolico protestante i protestanti all'inizio partecipano un po poi si ritirano e quindi dalla ricerca di una composizione della frattura tra cattolici protestanti il concilio passa alla all'attacco al contrattacco passa alla contro riforma ecco qui la differenza tra riforma cattolica che è un fenomeno culturale religioso più ampio e contro riforma che invece è un termine che ha un senso diciamo politico organizzativo cioè il concilio parte al contrattacco contro la riforma protestante esempio famosissimo l'indice dei libri proibiti nel 59 la contro riforma naturalmente non vuole essere un contrattacco solo contro i protestanti ma contro tutta l'eterodossia gli eretici eccetera concilio produce decreti di dottrinali e di riforma i decreti dottrinali negano vabbè i punti qui vedete lo schemino negano libero esame e l'individualismo protestante la messa si fa in latino la bibbia in latino servono le opere non basta la sola fede i sacramenti sono validi purgatorio esiste le indulgenze possono essere vendute ottenute per quanto attiene i decreti di riforma per esempio da qui in avanti i membri del clero devono risiedere nella loro parrocchia o diocesi non possono accumulare benefici cioè un vescovo non può essere vescovo più di dieci diocesi diverse ma deve essere vescovo di una sola vengono istituiti seminari per rigorizzare la preparazione dottrinale del clero e anche la moralità del clero andiamo avanti questo me l'hanno fatta saltare diciamo vabbè è importante cogliere un periodo storico nella sua chiara oscuralità cioè riforma cattolica contro riforma non è soltanto la chiesa che brucia la gente sul rogo è anche questo ma è anche un momento di grande evoluzione approfondimento della mistica cattolica eccetera dell'arte il barocco la musica eccetera 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 approfondimenti per gli studenti che vogliono approfondire ne esistono ancora due film e due libri propongo qui i film sono ovviamente direi silence discorsese sui gesuiti in giappone e mission sui gesuiti nelle americhe famosissimi tutti e due per invece quanto attiene alle letture io propongo un romanzo contemporaneo acquavite di uno scrittore svedese che racconta di un è contemporaneo però è un bel romanzo perché fa vedere la spiritualità luterana acquavite racconta di un pastore svedese luterano che torna vecchissimo nel suo paese e vuole scristianizzare tutti i suoi compaesani che aveva cristianizzato tanti anni prima e poi perché no montanelli storia d'italia di montanelli il volume sulla contro riforma che è molto bello ecco poi io ho detto che la mia lezione è frontale e partecipata cioè gli studenti partecipano come partecipano gli studenti naturalmente a dei ragazzi della generazione alfa o zeta o quello che è la contro riforma potrebbe dire poco quindi per farli parlare per discutere per rendere partecipata la lezione si può per esempio io ho fatto questo esempio qui citare un libretto di pietro prini che è il filosofo su cui io ho fatto la tesi di dottorato il libretto si chiama lo scisma sommerso prini racconta spiega insomma come secondo lui ci sarebbe uno scisma nascosto nei cattolici italiani cioè tante persone che pure dicono di essere cristiane di credere eccetera non si riconoscono nella chiesa e perché non si riconoscono nella chiesa perché la chiesa in certo modo ha mantenuto ancora quelle posizioni arcigne ostili alla modernità eccetera che come dire che fa da quando c'è stato concilio di trento anche da prima per un certo verso cioè far vedere agli studenti come ancora oggi c'è l'eredità presente e viva l'eredità del concilio di trento e solo dal concilio vaticano secondo la chiesa un po aperto alla modernità eccetera eccetera vado veloce cooperative learning la parte di didattica più innovativa ho proposto di dividere la classe in cinque gruppi o sei a ogni gruppo viene data una fonte da analizzare fonti visive o fonti scritte per esempio estasi di santa teresa oppure una pagina di un bellissimo libro di degli ocantimori che parla degli eretici italiani del cinquecento una pagina sul nicodemismo è un termine molto bello deriva da nicodemo che era un personaggio del vangelo uno che incontrava gesù solo di notte perché aveva paura di manifestare pubblicamente la sua fede in gesù il nicodemismo è quel fenomeno ereticale che designa in particolare gli italiani del cinquecento che pur dentro di sé aderendo al protestantesimo fuori di sé negano di essere protestanti e ipocritamente diciamo dicono di essere dei bravi cattolici poi per esempio una pagina degli esercizi spirituali di sant'ignazzo di loiola magari una pagina sul peccato la notte oscura che un bellissimo poema mistico di san giovanni della croce oppure questo bellissimo lavoro di eronibus bosch il giardino delle delizie terrene per analizzare queste fonti il docente fornisce un vademecum ai gruppi di studenti tipo riassumi il senso della fonte che tipo di argomento viene trattato evidenza gli elementi fondamentali e gli studenti seguendo il vademecum dovrebbero produrre un piccolo testo di commento alla fonte e alla fine si arriva alla verifica va beh qui saltiamo che se volete poi fermate il video leggete io qua ho fatto un esempio di verifica un po come quelle che facevo a scuola l'anno scorso domanda di geografia storica indica sulla cartina le zone protestanti cattoliche ortodosse poi domande aperte spieghi senti sinteticamente il senso della dicotomia riforma cattolica contro riforma quando si tiene il concilio di trento i quali esiti a quali esiti condusse chi fu ignazio di loiola e quali furono le caratteristiche dell'ordine di gesuiti domande aperte un'ora dieci punti totali griglia di valutazione importantissima ragazzi e ragazze se fate l'orario del concorso ricordatevi che dovete mettere una griglia di valutazione per far vedere come date i voti io confesso ho copiato incollato una griglia agile che ho trovato online e vi dice quanto punteggio dare alle varie voci conoscenze uso del linguaggio specifico capacità di analisi e sintesi capacità di argomentazione e poi la quinta voce applicazione delle conoscenze ora queste quattro voci li usiamo per valutare la verifica la quinta voce applicazione delle conoscenze la usiamo per valutare il commento alla fonte che gli studenti hanno prodotto nel cooperative learning sicché il voto finale per quattro quinti deriva dalla valutazione della verifica per un quinto deriva dal lavoro di gruppo che è stato fatto e qua è finita la mia presentazione vi dicevo preso 80 io sono stato torturato sulle tic sulle tecnologie nuove mi sono uscite come domande alessandro magno le conquiste di alessandro magno e la società aperta e la società chiusa di popper ecco lì il problema è stato che alessandro magno io me lo ricordavo da liceo me lo ricordavo abbastanza bene per la verità però devo dire mi ero anche un po' innervosito per via delle domande insistenti sulle tic una mi ha chiesto a un certo punto lei usa powerpoint vero per i suoi studenti io ho mentito ho detto sì sì ma è powerpoint mi fa schifo non lo userò mai e viva la vecchia scuola da un certo punto di vista no voglio dire vabbè tutti gli strumenti sono legittimi per carità adesso faccio polemica un po così sorridendo powerpoint va bene uno schemino però filosofia richiede un altro tipo di vabbè mi è uscito alessandro magno e per cui si ricordavo da liceo ma le date non me le ricordo più mica tanto bene però insomma me la sono arrangiata via mentre eravamo fuori io e altri ad aspettare di entrare per la prova orale circolavano fantozianamente voci incontrollate sulle domande via via che erano state estratte a quanto pare uno aveva estratto la seguente domanda la riforma religiosa del faraone amenofi quarto cioè a che nato ecco questo non è programma di noi 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 di storia e filosofia facciamo storia dal mille al da mille alla contemporaneità però dobbiamo sapere anche legittimamente la storia precedente insomma il video è già molto lungo credo siamo sui venti minuti quindi concludo diciamo segnalo due cose una c'è una specie di paradosso di fondo perché da una parte si esige come giusto che sia ai docenti una preparazione molto approfondita su tantissimi argomenti ci sta ma dall'altra e quindi diciamo il vecchio modello se volete di da giovanni gentile di studi di professore liceale in particolare poi nella riforma di gentile il prof di storia e filosofia era il vertice dell'istruzione ecco questo modello un po è rimasto ma si è unito anche un altro modello dello studente del scusate del docente regista psicologo facilitatore che deve conoscere la psicologia le tecnologie far lavorare in modo autonomo gli studenti con lavori di gruppo o tecnologici eccetera io non so fino a che punto questi due modelli vadano bene insieme ecco seconda osservazione la farsa di tutta questa cosa perché adesso bisogna dire anche delle cose un po fuori dai denti perdonatemi questo concorso è il primo di un nuovo tipo è la prima volta che chi passa un concorso non riceve l'abilitazione all'insegnamento almeno la prima volta in tempi recenti adesso io non so tutta la storia normalmente quando uno passa al concorso come è successo a me ottiene l'abilitazione all'insegnamento e passa in prima fascia cioè ottiene più supplenze eccetera questo concorso non è più abilitante e probabilmente non ci saranno più concorsi abilitanti per ottenere l'abilitazione adesso bisogna conseguire un numero di crediti universitari tramite percorsi abilitanti a pagamento del costo di 2000 rotti euro un sacco di ore un sacco di tirocinio non retribuito eccetera 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 e questo è un trattamento ingiusto che noi subiamo perché siamo svantaggiati rispetto alle generazioni precedenti di docenti e questo è fuori discussione l'altro aspetto farsesco di questo concorso è che per la lombardia c'erano sette posti per filosofia storia quindi io suppongo che anche se avessi fatto cento e cento lo scritto all'orale non avrei comunque preso nessuno dei sette posti perché un ulteriore quota di 50 punti era riservata a chi ha anzianità di servizio quindi una mega di gente ha fatto il concorso ha fatto la prova orale tanto tanto per vedere com'è chi ha passato il concorso riceve questa specie di lemosina di mancetta di tre punti in graduatoria che è una roba ridicola ridicola quindi lo stato ha speso una valanga di soldi per istituire le prove orali e poi le prove scritte le prove scritte poi le prove orali visto che lo scritto era banale agli orali sono passati frotte di persone sono state istituite commissioni su commissioni che giorno per giorno per mesi per mesi per mesi esaminano gente stanno lì dalle due del pomeriggio alle sette di sera oltre alle ore di lezione la mattina eccetera eccetera tutto per piazzare 3 4 5 6 7 poveri cristiani per il friuli c'era noi eravamo accortati lombardia veneto friuli per il veneto tre posti per il friuli 1 per la lombardia 7 quindi per un totale di 10 posti di 11 posti tre regioni tre commissioni noi avevamo a nastro oggetto con cioè ma ragazzi ma non è ridicola sta roba non è ridicola boh a me devo dire la verità passa il tempo e sempre più spesso occorre il pensiero di piantarla lì con l'insegnamento però non voglio neanche fare il melodrammatico questo è spero che il video sia utile per chi vuole preparare in ogni caso il concorso io vi auguro tante cose belle e vi ingiungo come sempre di fare molto molti bravi ciao cari